In questa quinta lezione prendiamo in considerazione la seconda parte del dialogo, ovvero quella parte in cui la filosofia rosminiana è elogiata sia nel suo metodo che nei suoi contenuti. Il primo merito di questa filosofia proposta da primo consiste, come in parte abbiamo già avuto modo di vedere, nella terza lezione, nel fatto che faciliti l'esame di tutti i sistemi filosofici. Questo è possibile in virtù del fatto che la dottrina rosminiana propone un unico criterio di esame applicabile a tutti i sistemi che i filosofi nel corso della storia del pensiero hanno voluto proporre. I sistemi filosofici criticabili sono tutti quelli che in forza, potremmo dire così, di un principio arbitrario costituiscono una filosofia che diviene anch'essa arbitraria. è pur vero che alcuni, per il solo fatto che si parli di sistema, ritengano ciò arbitrario per se stesso. Infatti sembra di primo acchito che porre insieme una serie di dottrine filosofiche, cioè ridurle a sistema, appunto, costituisca già un errore manifesto, poiché si pensa al porre insieme come ad una sorta di riunione arbitraria di una cozzaglia di dottrine che non è detto che debbano stare assieme. Il problema è però riscontrabile nel fatto che l'escludere a priori che la verità filosofica possa formare un sistema significa escludere in pari tempo che nelle verità filosofiche vi possa essere ad un tempo unità, varietà e ordine. Se è dunque necessario rigettare un sistema filosofico fondato su un principio arbitrario, allo stesso modo non si potrà rigettare un sistema filosofico che abbia come fondamento un principio vero. Tale considerazione deve valere per qualunque sistema e questo è molto interessante perché in gioco entra anche quello rosminiano. Infatti il primo afferma vi nascerà egli il sospetto che anche questo sistema sotto un'apparenza che sarebbe straordinaria davvero se non fosse altro che un'apparenza d'universalità e di connessione nasconda un suo vizio capitale? L'autore medesimo vavrà indicati i mezzi più pronti e più sicuri per coglierlo in fallo e vavrà singolarmente addestrato a servirvene. Fate con lui ciò che l'avrete visto fare con gli altri. Vedete, se potete trovare qualcosa d'anteriore a ciò che pone per primo, qualcosa al di fuori di ciò che pone per universale, qualche possibilità di dubbio contro ciò che stabilisce per fondamento ad ogni certezza, vedete se il criterio col quale ha resa manifesta la deficienza degli altri sistemi lo applica rigorosamente al suo, se dà risposte chiare, dirette, adeguate alle domande che ha fatte ad essi inutilmente. Secondo nota che la filosofia di Rosmini fatica ad essere largamente accettata e primo motiva il fatto, mostrando che la filosofia rosminiana richiede ai suoi cultori delle precise caratteristiche, in parte questo lo abbiamo già visto, ma sentiamo dalle sue parole. La filosofia rosminiana richiede prima di tutto una gran libertà di intelletto, un fermo proposito ad osservare le cose quali sono in sé, indipendentemente da ogni abitudine non ragionata, da ogni opinione docilmente ricevuta. Questa filosofia inoltre richiede di non essere precipitosi nelle conclusioni e di accettare quindi senza esitazione le conclusioni che si sono adeguatamente provate e quindi ciò che si è dimostrato come valido. Prima di considerare i pregi della filosofia rosminiana, primo propone una sorta di excursus concernente i diversi sistemi filosofici e la loro fortuna. Il primo considerato è quello sorto in Inghilterra ad opera di Locke e sostenuto poi dai continuatori francesi, i quali proprio a partire dalle premesse locchiane hanno prodotto una filosofia che definiamo appunto sensistica. Primo afferma, quella filosofia che è nata in una parte d'Europa e allevata in un'altra. La signoreggiò quasi tutta per una gran parte del secolo passato dov'è ora? Voglio dire, chi è più che la professi, che la continui, che la sostenga come corpo di dottrina? Che in quanto a rimanere nelle menti delle conseguenze staccate ma fisse e attive e in quanto all'esserne entrate anche in altri sistemi in apparenza molto diversi e un'altra cosa. Gli effetti delle filosofie che hanno avuto un vasto e lungo impero sono come gli atti di Cesare, i quali sapete quanto e per quanto tempo furono fatti valere dopo che Cesare ebbe toccati quei ventitré colpi a piedi della statua di Pompeo. Conseguenza però che non servano in vita e autorità se non in quanto non sono riconosciute come conseguenze di quella filosofia stata repudiata e repudiata espressamente, scientemente, costantemente dopo una lunga resistenza. Il secondo sistema considerato è quello sorto in Germania inizialmente con Kant, poi con Fichte, Schelling ed Hegel. Afferma primo, sorse in un'altra parte d'Europa un'altra filosofia, la quale rimasta per qualche tempo inosservata, la riempì poi in un momento, se non di sé, del suo nome. Ma appena principiava qualche d'uno a studiarla, fuori del paese dove era nata, che già in quello tra i primi discepoli era sorto un nuovo maestro, il quale proponendosi da principio di continuarla ed ampliarla, la rifece e fondò una nuova scuola. E da questa non tardò ad uscire un nuovo maestro, per essere, poco tempo dopo, soverchiato anche lui da un discepolo ribelle che si fece capo ad un'altra scuola. Primo mostra secondo i pregi della filosofia rosminiana, la quale paragonata alle precedenti, quindi quella di stampo sensistico e l'altra di stampo idealistico, rappresenta un pensiero coerente e capace di essere soddisfacente per la ragione. Primo afferma. Qui sentirete a ogni passo rassodarvisi il terreno sotto i piedi. Qui il salire vi procaccerà un vedere tanto più fermo, quanto più esteso. Qui, condotti sempre dall'osservazione, richiamati sempre alla vostra propria testimonianza, troverete alla fine, nelle formule più astruse al primo sguardo, il sunto di ciò che ognuno o crede abitualmente o abitualmente sottintende. Che uno dei grandi effetti di questa filosofia è appunto di mantenere, di rivendicare all'umanità il possesso di quelle verità che sono come il suo natural patrimonio, contro dei sistemi i quali se non riescono a levarle affatto, nemmeno dalle menti dei loro seguaci fanno che ci rimangano come contraddizioni. Qui vi rallegrerete di sentire un vero rispetto per l'intelligenza umana, una fondata fiducia nella ragione umana, riconoscendo bensì come l'una e l'altra sia limitata nella cognizione della verità, ma sentendovi sicuri che non sono né possono essere condannate a errori fatali, anzi ricavando questa sicurezza anche da quel riconoscimento, giacché i limiti attestano il possesso col riconoscervelo e col circoscriverlo. Un vero e alto rispetto, dico, per l'intelligenza e per la ragione comune, impresse da una bontà onnipotente in tutti gli uomini e in paragone delle quali la superiorità degli ingegni più elevati è come l'altezza dei monti in paragone della profondità della terra. E non c'è scapito se, scemando un poco l'ammirazione per alcuni, cresce la stima per tutti. Secondo nota i vantaggi e i valori della filosofia rosminiana, ma si accorge del fatto che alcuni ritengano essa un pensiero che pretende ad annullare la ragione di non lasciare all'intelligenza altro lume che l'autorità della fede. E qui messo, direi, ben in luce il problema di come possa coesistere la libertà filosofica con l'assenso di fede ai dogmi rivelati. E' proprio primo che in una lunga argomentazione risolve la questione mostrando come la filosofia rosminiana sia una vera e propria filosofia cristiana. Egli afferma, sicuro che è una filosofia naturaliter cristiana, come disse profondamente Tertulliano dell'anima umana, sicuro che dopo aver percorso liberamente e cautamente, che in fondo è lo stesso, il campo dell'osservazione e del ragionamento si trova, per dire così, accostata alla fede. E vede negli insegnamenti e nei misteri medesimi di questa il compimento e il perfezionamento dei suoi risultati razionali. Non che mai la ragione potesse mai arrivare da sé a conoscere quei misteri, non che anche dopo essere stata sollevata dalla rivelazione a conoscerli, possa arrivare a comprenderli. Ma n'intende abbastanza. Mi servo della bella distinzione ricavata da questa filosofia medesima, per vedere che le sono superiori, non opposti, e che è quindi assurdo il negarli. Ne intende abbastanza per trovare in essi la spiegazione di tanti suoi propri misteri. Com'è del sole, che non si lascia guardare, ma fa vedere. Non che, dico, le più elevate e sicure speculazioni della filosofia possano mai produrre la sommissione dell'intelletto alla fede, che sarebbe un levar di mezzo questa sommissione medesima, cioè non sarebbe altro che una grossolanissima contraddizione. Ma siccome i falsi concetti, i sistemi arbitrari intorno alla natura dell'uomo e ai più alti oggetti della sua cognizione possono opporre e oppongono in effetto degli ostacoli speciali a questa sommissione, così una filosofia attenta a riconoscere un qualunque oggetto, ciò che è senza metterci nulla di suo, può sostituendo dei concetti veri ai falsi, rimuovere quegli ostacoli speciali, di maniera che, scomparsa l'immaginaria repugnanza della ragione con la fede, non rimangano se non le repugnanze che Dio solo può farci vincere, quelle del senso e dell'orgoglio. Primo mostra quindi come le stesse verità rivelate non siano d'ostacco alla scienza, ma anzi possono essere di indubbio aiuto e soccorso. Egli afferma infatti che così come gli errori scientifici possono nella mente dell'uomo essere ostacoli alla fede, così le verità rivelate possono essere aiuti per la scienza, poiché facendo conoscere le cose nelle loro relazioni con l'ordine soprannaturale, le fanno necessariamente conoscere di più e quindi la scienza può procedere da un noto più vasto alle ricerche e alle scoperte sue proprie. Il ragionamento di Primo lo porta a formulare la seguente domanda. Quando per esempio quei due filosofi, il vescovo di Pona e il frate d'Aquino, osservano e pretendono di dimostrare che in ogni creatura si trova una rappresentazione della Trinità. Quando il filosofo roveretano, dietro un'osservazione più generale e più immediata della natura medesima dell'essere, osservazione per conseguenza feconda di più vaste varie applicazioni, pretende di dimostrare che l'essere è essenzialmente uno e trino. Cos'importa relativamente al valore scientifico dell'osservazione che questa sia stata indicata, suggerita dalla rivelazione. Prendendo in considerazione l'intera filosofia rosminiana, Primo segnala quanto essa sia perfettamente coerente in tutte le sue parti e a ragion d'esempio si sofferma sull'etica, ovvero la scienza morale rosminiana, concludendo il suo intervento in questo modo. E quando, dall'avere esaminata la teoria rosminiana della scienza morale, teoria connessa indivisibilmente con l'intero sistema, avrete a concludere che è rigorosamente conforme alla ragion, l'amare Dio, sopra ogni cosa, e il prossimo come se sei medesimo, cosa detrarrà alla forza filosofica dei ragionamenti e alla legittimità della conclusione, il riflettere che la filosofia non illuminata dalla rivelazione, filosofia capace bensì di discernere molte verità morali e di riunire le teorie giuste e vere, quantunque incomplete, non sarebbe però potuta salire fino a queste verità così principali. Potrete voi dire che nel riconoscere ciò che non avrebbe potuto conoscere da sé, la ragione non faccia un'operazione sua propria? E ora voi indovinate sicuramente che uno degli effetti di questa filosofia dei quali vi avrei parlato se non avessi temuto di riuscirvi indiscreto? Anzi, l'effetto più consolante e più importante è appunto questo, di cui le si fa così stranamente un'obiezione. La conclusione di rincalzo a tale discorso di primo è operata da secondo attraverso la considerazione del fatto che questa grandiosa filosofia rosminiana, accennata da primo e certamente necessitante di approfondimenti da parte di tutti, resta per le generazioni contemporanee, i due protagonisti del dialogo, decisamente estranea. Proprio perché lo stato d'animo dei contemporanei non è pronto a gustare questo tipo di filosofia così attenta e rispettosa nei confronti della metafisica. È appena il caso di sottolineare, e qui concludiamo questa lezione, che la metafisica rosminiana, una delle più limpide manifestazioni di genialità e di grandezza del filosofo, è vista come avversaria del materialismo e del positivismo, che proprio in quegli anni e fino alla fine del XIX secolo costituiranno gli assi portanti di molte filosofie di successo.